Ok ragazzi, abbiamo un'intervista speciale. Abbiamo ora una intervista speciale da Internet Marketing Spring Break. Nel nome? Mi nome è Neil Patel. Ok, chi sei? Sono un 23 anni, ho fatto molte cose diverse. Ho iniziato un'azienda di Internet Marketing a alcune società di software come Crazy Egg e Kissmetrics, che non lo lanciano. E sono anche un blogger attivo e investitor. Quante persone usano il Crazy Egg? Molto, abbiamo più di 100.000 usanti, ma molti sono gratuiti. Ok, qual è la tua opinione sulla economia currenta? Cosa è la europea? La mia opinione? La mia opinione sulla economia currenta credo che va a diminuire ancora più. Credo che siamo in tempi dei tempi, in tempi, in tempi, in tempi, in tempi. E io penso che potete spettare e investire. Usa la tua avanti. Quando hai una possibilità, investire. Perché sai cosa? L'unico'unico'unico'unico, sospetto, sospetto e buona vita è la tua avanti. L'unico'unico di quello che puoi avere e lo abusi come possibile. Quindi, quello che è lato per altre persone, può essere meglio per te. Molto bene. Qual è la tua opinione sulla economia currenta e la crisi currenta? Ci sono alcuni problemi o c'è un'incristo? La regione internet, credo, va a diminuire un po' per il anno perché è la recessione. E' probabilmente in un anno o due. Ma, in ogni tanto, credo che va a evolvere un po' in cui, in cui, prima, l'internet marketing era solo SEO, PPC, ma è un po' per un. Non puoi fare un po' per l'altro, devi fare tutto. Devi essere molto bene, devi fare PPC, SEO, social media, e-mail marketing, banner advertising. Tutti che funziona, soli che sai come fare bene e attraversi la tua ROI. Ok. Quali sono i nuovi trendi che saranno nei prossimi anni o nei prossimi anni? Penso che la maggior parte della società è più di network di social quindi potrai vedere più di Facebook, Twitter e le siti che potrai aiutare. Ci sono già molti di ozzi, quindi è una domanda di come potete aiutare le ozzi in cui potete le ozzi? Molto bene. Grazie, Neil. È molto bene, grazie per avermi. Molto bene, molto bene, è un apprezzato. è un apprezzato. Grazie a tutti.